Ciao a tutti, oggi prepareremo lo spezzatino di carne con patate e piselli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 45 minuti circa. Gli ingredienti sono bocconcini di carne e infarinati, piselli, carote, cipolla, sale, prezzemolo, olio, patate, acqua, vino bianco, dato di carne e bimbi, aglio e peperoncino. I quantitativi e gli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo il prezzemolo nel boccale e lo andiamo a tritare per 3 secondi a velocità 8. Mettiamo da parte il nostro prezzemolo tritato che ci servirà per dopo. Senza lavare il boccale andiamo ad aggiungere le carote, la cipolla, l'aglio e il peperoncino. e le andiamo a tritare per 5 secondi a velocità 5. finiamo sul fondo. Andiamo ad aggiungere l'olio e andiamo a insaporire per 5 minuti, 120 gradi, velocità 1. adesso andiamo ad aggiungere la carne. andiamo a mettere il sale. andiamo a cuocere per 10 minuti, 120 gradi, anti orario, velocità 1. adesso andiamo un po' sul fondo con la spadola. andiamo a mettere il vino bianco. e lo andiamo a sfumare chiudendo con il coperchio senza il misurino per 5 minuti. 120 gradi, anti orario, velocità 1. adesso andiamo ad aggiungere il dato di carne, l'acqua. e continuiamo a cuocere chiudendo con il coperchio e stavolta anche il misurino per 30 minuti. 90 gradi, anti orario, velocità 1. adesso aggiungiamo le patate, i viselli. proseguiamo la cottura per altri 30 minuti. sempre 90 gradi, anti orario, velocità 1. il nostro spezzatino è pronto. andiamo a impiattare. spezzatino di carne con patate e piselli. grazie e alla prossima ricetta. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.